Nel momento in cui non c'è bisogno di alcun trado per arrivare, noi stiamo iniziando questa riunione. Questi trado non hanno fatto un altro desarrollo che ci siamo manifestati praticamente da un lunedì e mei dopo del caso. Abbiamo visto che il problema del quale Pachico e Belga di EME INTA stanno trovando un luogo per sopravvivere. Nel momento in cui non c'è bisogno di rispettare di parte del governatore, in cui non c'è bisogno di parte del ministro di Justizia, mi hanno fatto un lunedì e mei dopo. Ma non c'è bisogno di rispettare, ci sono diversi problemi che ci sono. C'è bisogno di un momento in cui il direttore anterior di un caso che il signor Weinberg ha abbandonato il suo posto come direttore e che è bisogno di un governo del ministro Daws a nome della signora Hassel di un'imposizione di direttore di Kia. Però non c'è bisogno di un'imposizione ma non c'è bisogno di un'imposizione ma non c'è bisogno di un tipo di hack contro il trado che è bisogno di un tipo di regla, di un manegro, di un'imposizione senza aver guardato il quale è il personale, di un'imposizione di un'imposizione, di un'imposizione. La notte ora arriva con tutta sorta di aspetto non meno importante ha cominciato a preoccupare di un caso che è meno di un'imposizione di un'imposizione di parte del direttore che non è bisogno di un'imposizione di un ambiente di sfera di un'imposizione che non è bisogno di un'imposizione che non è bisogno di un'imposizione del quale mi sono guardato ma mirando l'infrastruttura dell'istituto che sta deteriorando dia tra dia il cammino non sta guardando però nessuna soluzione di parte del governo il ministro D'Aosta ha promesso di una visa del quale ho trovato un lugar per la sua inversione non è stata una nota il cammino del sindicato adizionalmente a Cava di mandare una carta al ministro di Salvatore Pubblico passò ora con Hans Radio Yente cammino e Tradona informando con un'invasione di differenti angedirte di tutti sorti di bestia che sta subendo venendo nella lera per il tubo di Riol e cammino a Bota Wac di un'afdeling di straf in Huis van Boar in questa parte ma pari di l'instituto penitenciario di un'ruimte cammino e recreati il tubo di PVEC che sta venendo per il WC e anche una persona che sta venendo a manifestare e a llenare questa zona praticamente che si sono sotto di acqua suci quantità di bactere in questa zona e questa è una situazione ahigienica che la cultura personal deve trattare di a di a di a di a fo per non contare il detenimento di un mesco di un attacco nel cammino del sindicato dopo la visa mirando un lunedì e non ha una reazione di parte di Zoel ministro Daus e il gobierno per questa situazione la nostra visa è basta la nostra canzone di PVEC e il sindicato dopo la visa non è la PVEC e il diavolo di l'antico è che adverter il gobierno nel prossimo dia che il sindicato non lo fa la PVEC e la parte di conversazione è arrivata sul limite possono portare la PVEC in maniera molto piccata l'antico di un'antico manda carta e la reazione di parte è responsabile per il cammino di manejo per i diversi departamenti di tutto il luogo e la nostra visa è che il istituto penitenziario non ha descartato che il nostro departamento di gobierno mirando che nel momento qui il nostro telefono è che il TAP possono prometere che il nostro che era planificato qui e il ministro sta in altra e ci sono che la situazione di Aruba per la quale è parte di telecomunicazione riba celular e il nostro telefono è che il nostro il cammino del governo sta in altra qui che poteva il papi e qui che poteva il bisagre e il nostro stella di caso un dry book di caso che fu di momento qui il nostro bai cominciamo a tra un dry book per la quale sobra la situazione di conferenza di parte del governo e il nostro e il nostro